Gaetano Spano, Assessore della Comunità Montana con delega alla forestazione, è stato audito in Consiglio regionale campano per trattare un tema sentitissimo, quello dei cinghiali. Ci sono tante soluzioni che sono state proposte, quali sono queste soluzioni? Ieri ho partecipato alla terza commissione in Regione Campania e diciamo che la Regione si è particolarmente preoccupata per quanto riguarda l'emergenza dei cinghiali. E tutti nel dibattito sono venute fuori alcune soluzioni, quale possono essere la sterilizzazione, la caccia ordinaria, la cattura attraverso i chiusini e la caccia sele controllata attraverso i sele controllori. Quello che si deve fare anche a mio avviso è quello di fare una mappatura delle zone dove c'è maggiore concentrazione dei cinghiali affinché i sele controllori possono comunque cercare di andare in quelle zone e cercare di abbattere quando più capi possibili che creano dei problemi importanti all'agricoltura. Ecco appunto una caccia selezionata non selvaggia che già viene sperimentata con ottimi risultati nelle zone italiane che meglio hanno saputo contrastare questo fenomeno, pensiamo alla Toscana quindi nulla di allarmante. La caccia selezionata è importante perché si può avere e questo soprattutto nell'area interna la cosiddetta filiera della carne. La filiera della carne che può portare reddito, può portare ricadute economiche e possiamo utilizzare i soldi ottenuti da questa filiera per dare degli indennizi agli agricoltori, per dare a lavoro reddito a cooperativi e associazioni del territorio che attraverso questo possono risolvere sia l'annoso problema dei cinghiali o almeno limitarlo oppure fare reddito e quindi creare posti di lavoro in più per tutto il territorio valdianese. Importante in conclusione parlare dei PSR che saranno uno strumento indispensabile per l'attuazione di queste politiche. Sì, tenendoci informati dalla regione Campania c'è stato detto che fra poco si riapriranno le nuove bandi per le case di caccia che nel 2019 erano state aperte solo per il pubblico, adesso verranno ampliati anche sul privato. Quindi casa di caccia che si possono connettere con la caccia selle controllata, fare la cosiddetta filiera di carne e questo è importante per le aree interne a mio avviso perché le aree interne a questo punto sono un punto nevralgico per l'emergenza dei cinghiali perché noi abbiamo i danni più importanti, anche se nelle città adesso stanno avendo problemi con i cinghiali. Però noi aree interne possiamo risolvere il problema, possiamo essere capofili nella risoluzione del problema e trasformare questo problema in opportunità, in risorsa e addirittura valorizzarlo e gestirlo in maniera sostenibile.